Mi raggiungerai in questa lontana terra è come se mi arrivasse un pezzetto della mia cara patria. Carmela Dorada, qui è mezzogiorno e da te mezzanotte. That's all right? Ma che importanza hanno queste enormi distanze quando i nostri cuori battono insieme? Come arrivo ti spedisca la carta o lì? Come arrivo, c'è uno sarpa che ti aspetta. Posso vedere il suo biglietto? Questo è un biglietto turistico con riduzioni speciali per gli emigranti. E che significa questo? Questa è la prima classe, prego, venga con me. Sì. Perfesso. Mi raggiungerai in questa lontana terra è come se mi arrivasse un pezzetto della mia cara patria. Carmela Dorada, qui è mezzogiorno e da te mezzanotte. That's all right? Ma che importanza hanno queste enormi distanze quando i nostri cuori battono insieme? Come arrivo ti spedisca la carta o lì? Amore, che ce lo sarpa che ti aspetta. Lancia la battenza nel volo. Attention, prego, av Andersen abbiamo scngulo la gente Il volo 3 4 2 per Madrid ... No, 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 no...